I ragazzi dell'Istituto Comprensivo Falcone alle prese con il gioco degli scacchi. Torna con la quinta edizione l'atteso appuntamento annuale che vede i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Falcone di Sassano sfidarsi in gare di scacchi per mettere in pratica quanto appreso durante l'anno scolastico. Da anni infatti l'Istituto Falcone è una scuola leader nella preparazione dei ragazzi al gioco degli scacchi che rappresenta anche un utile gioco per svegliare la mente e allenarla alla riflessione. Unendo quindi il gioco alla didattica si cerca di aiutare i ragazzi a crescere in maniera sana e a prepararli anche alle future sfide della vita per ciò che riguarda la formazione. Sabato prossimo, 13 maggio, le attività legate al progetto denominato a scuola con gli scacchi promosso e ideato dal professor Pasquale Trotta con il contributo della GB Gruppo di Brizzi si concluderanno con una giornata di torneo che prenderà il via alle ore 9 con la fase eliminatoria che prevede 5 turni in cui si sfideranno gli alunni delle scuole secondarie di primo grado dei plessi di Sassano e Monte San Giacomo e gli ex alunni under 19. Nel pomeriggio si entrerà nel vivo con la fase finale a cui avranno accesso i primi 20 classificati della fase eliminatoria della mattina. Il torneo si concluderà con la gara simultanea con l'istruttore nazionale Carmine Delisa che se la vedrà con i migliori 10 interni in una gara in cui li sfiderà i 10 finalisti contemporaneamente. Al termine si terrà la premiazione. Il torneo, fanno sapere dalla scuola, rappresenta la parte finale di un'attività che si è svolta durante tutto l'anno scolastico nelle singole classi. La fase iniziale di qualificazione ha visto tutti gli alunni impegnati in più lezioni a volte di mattina ma anche in orario extracurriculare con rientri pomeridiani durante le quali, oltre ad apprendere le prime nozioni di base degli scacchi, si sono cimentati nel gioco sfidando ogni volta un avversario diverso. Il gruppo di Brizzi continuano dalla scuola con la sua cortese disponibilità, consente di poter consegnare dei premi, coppe, medaglie ai vincitori e partecipanti, nonché contribuire alla diffusione della pratica e della passione per il gioco degli scacchi.